Comunità montana Vallo di Diano migliorano comunicazione e contatti con la protezione civile comprensoriale. Pollica polemiche su Expo 2015 e dieta mediterranea, il sindaco Stefano Pisani attacca Mendolara che risponde. Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche il Vallo di Diano, eventi celebrativi. Polla Carmine Liguori, nuovo presidente regionale della World Kickboxing Federation in Campania. Palermo, la Metal Fair Runner, protagonista alla Maratona cittadina. A tutti ben ritrovati dalla redazione di Uno News. Apriamo il nostro giornale con una notizia di cronaca che arriva da Colliano. Un uomo di 89 anni, un agricoltore, è stato trovato senza vita nel fondo di un pozzo. L'ha scoperta ieri sera a rinvenire il suo corpo i vigili del fuoco che hanno operato per ben 5 ore, dalle 22 di ieri sera fino alle 3 di questa mattina. Sul caso c'è lo stretto riservo dei carabinieri che stanno indagando sul caso per risalirne le cause. E ancora andiamo avanti da Pestum, un'altra tragica notizia di cronaca. Questa mattina, secondo quanto riportato dal quotidiano online stile TV, un bambino extracomunitario di due anni ha rischiato la vita per soffocamento dopo aver mangiato una caramella. Rianimato dalla Humanitas di Santa Venere, allertata dal 118 di Vallo della Lucania, il bambino è stato trasportato al Santo Bono di Napoli dove è stato salvato. Infatti secondo i medici non rischia la vita. E andiamo ancora avanti con la protezione civile e con la comunità montana Vallo di Diano. Come annunciato nell'ambito della presentazione del progetto SAVE in occasione dell'incontro dello scorso anno presso la sede della comunità montana Vallo di Diano, si arricchisce di sempre maggiori servizi il piano di protezione civile comprensoriale e tra i primi ad essere attivati a livello territoriale. Seguiamo Anna Cava. Il piano comprensoriale di protezione civile predisposto dalla comunità montana Vallo di Diano presieduta da Raffaele Accetta, prosegue il suo percorso di crescita per venire incontro alle esigenze del territorio ma soprattutto degli abitanti dell'area di riferimento. Il progetto SAVE presentato lo scorso anno è già da tempo attivo sul territorio consentendo una più ampia e dettagliata panoramica di quelle che possono essere le criticità del territorio grazie anche al portale web dedicato proprio alle attività di miglioramento ed efficientamento del servizio di protezione civile e di sicurezza. Nell'ambito delle attività comprensoriali il portale web dedicato consente ai cittadini di essere sempre informati sui rischi e sulle attività realizzate dal gruppo comprensoriale della protezione civile. Inoltre online sul sito www.cittavallodidiano.it sarà possibile conoscere i piani di sicurezza oltre che interagire direttamente con la protezione civile. I servizi online non si esauriscono qui ma piuttosto si ampliano. Ora infatti è possibile restare sempre in contatto con la protezione civile della comunità montana Vallo di Diano grazie al supporto di specifiche applicazioni scaricabili su tutti gli smartphone e tablet indipendentemente dal sistema operativo. Tra le app già disponibili al momento c'è gestione emergenza, trovami e segnalazione eventi. Partendo dalla volontà di sensibilizzare innanzitutto tutta la cittadinanza verso la sicurezza e ricordando che ognuno può contribuire al buon esito delle operazioni di soccorso, le applicazioni sono state anche realizzate in base a quelle che possono essere le principali esigenze dei cittadini. Con l'applicazione gestione emergenza ad esempio i cittadini avranno la possibilità di portare sempre con sé i numeri di emergenza. L'applicazione trovami invece consente di segnalare la propria posizione. Indispensabile e utile è anche la terza applicazione che consente a chiunque di segnalare eventuali rischi allegando anche relativa foto. Intanto il progetto come anticipato in sede di presentazione presso la comunità montana Vallo di Diano vedrà anche i giovani coinvolti che saranno anche parte attiva proprio del progetto SAVE al fine di abituare e sensibilizzare le giovani generazioni verso la cultura della protezione civile. È infatti già pronto il materiale informativo che sarà presto distribuito in tutte le scuole del comprensorio di ogni ordine e grado, ulteriormente arricchito con una campagna di formazione in tutti i 15 comuni afferenti alla comunità montana. Prende sempre più corpo quello che era il progetto lo scorso anno che mira essenzialmente a rendere omogenee anche le operazioni di soccorso su tutto il territorio valdianese. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Panico sulla tre questa mattina per un inseguimento tra polizia e un gruppo di ladri tra le uscite di Eboli e Monte Corvino. Gli agenti della polstrada di Eboli in collaborazione con la radiomobile di Battipaglia hanno infatti intercettato un'auto rubata piena di refurtiva a seguito di una serie di furti presso abitazioni della piccola comunità di Salvitelle. L'auto fa un Alfa Romeo 147 e risultata rubata a Roccadaspide lo scorso 14 novembre. Si è concluso così l'intervento degli agenti della stradale che guidati dall'ispettore Antonio Quaranta vedrà presto restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. Andiamo avanti. Polemiche sulla dieta mediterranea e su Expo 2015 sono scoppiate in queste ore tra il sindaco di Pollica Stefano Pisani e il direttore dell'osservatorio sulla dieta mediterranea Diego Amendolara. Pisani accusa Regione e Parco di essersi fatti scippare letteralmente dalla Sicilia il padiglione bio-mediterraneo. Ma per Amendolara si tratta di una svista da parte del primo cittadino. Spieghiamo in questo servizio il perché. Polemica sulla dieta mediterranea per Expo 2015 a Milano. A lanciarla è il sindaco di Pollica Stefano Pisani che rivolgendosi alla Regione Campania e al Parco Nazionale del Cilento li ha definiti responsabili della mancata presenza della Campania all'Expo 2015 di Milano che si è vista sottrare l'assegnazione del padiglione bio-mediterraneo dalla Regione Sicilia. La dieta mediterranea è stata scippata al Cilento, è l'accusa di Pisani che campeggia oggi sulle principali pagine dei quotidiani locali. Pronta la risposta di Diego Amendolara, presidente dell'osservatorio sulla dieta mediterranea, che ha detto il sindaco di Pollica ha preso una svista. La Campania sarà la regione capofila dell'evento Dieta Mediterranea, in programma ad Expo 2015 a Milano. Il direttore Amendolara, replicando al sindaco di Pollica, ha inoltre specificato che cosa diversa è il cluster bio-mediterraneo affidato alla Regione Sicilia, dove si parla di salute, bellezza ed armonia, temi che si intrecciano con uno stile di vita sano ed equilibrato, tipico della dieta mediterranea, ma che sono parte di un evento diverso da quello sulla dieta, affidato alla Campania dal sistema delle Regioni. Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, è una rassegna espositiva sul mondo dell'alimentazione e che vede la presenza di 130 partecipanti ed un sito espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare oltre 20 milioni di visitatori previsti, con tema Cardine per il 2015, Nutrire il pianeta, Energia per la vita. La polemica di queste ore si innesca tra l'altro nel corso del primo salone della dieta mediterranea, che si sta svolgendo nel quartiere commerciale delle Fiere di Vallo, a Vallo della Lucania, località Pattano, organizzato da Incoming, un consorzio con sede a Pestum che si occupa di turismo e proprio in collaborazione con la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Liano Alburni, oltre che con l'ente provinciale al turismo, Union Camere e il Comune di Vallo. Ci spostiamo nel Vallo di Diano presso l'aula magna delle scuole elementari di Via Matteotti a Sala Consilina. Mercoledì 26 novembre l'amministrazione comunale e l'ingegnere Attilio De Nigris, responsabile area tecnica, presenteranno il preliminare del piano urbanistico comunale. L'inizio dell'incontro è previsto alle ore 19. Vediamo. Mercoledì 26 novembre presso l'aula magna delle scuole elementari di Via Matteotti a Sala Consilina si terrà il primo di una serie di appuntamenti finalizzati alla realizzazione del piano urbanistico comunale. Il procedimento integrato di pianificazione e valutazione ambientale strategica è stato avviato. Ora i principali contenuti del PUC saranno presentati in un incontro pubblico che avrà inizio alle ore 19 in un convegno moderato da Antonella Cartolano e che vedrà la partecipazione e l'intervento oltre che del sindaco Francesco Cavallone anche del dirigente dell'area tecnica del comune di Sala Consilina, l'ingegnere Attilio De Nigris, che presenterà il piano spiegando nei contenuti essenziali in qualità di pianificatore del PUC con il supporto dei suoi collaboratori. Sono inoltre previsti gli interventi del responsabile ufficio urbanistico della provincia, l'architetto Nicola Vitolo e l'architetto Gelsomina Lombardo, assessore all'urbanistica del comune di Sala Consilina. Nel corso dell'appuntamento saranno anche spiegate le modalità di partecipazione da parte dei portatori di interesse, sia in forma singola che in forma associata. In seguito saranno poi organizzati ulteriori tavoli tecnici a tema a cui saranno chiamati a partecipare i propri portatori di interesse. Chiunque volesse prendere visione del preliminare del PUC potrà rivolgersi direttamente all'area tecnica del comune di Sala Consilina oppure sul sito internet www.puc.salaconsilina.gov.it La regione Campania con apposita delibera nei giorni scorsi ha stanziato una cospicua somma destinata alla realizzazione di 10 asili nido e su tutto il territorio regionale a cui si aggiunge lo stanziamento dei fondi per le attività di supporto e per famiglie sempre in tema di politiche sociali. Si avvicina la scadenza elettorale e come da prassi si intensifica l'attività del Consiglio regionale della campagna guidato da Stefano Caldoro che punta forte alla sua riconferma la guida dell'ente di Palazzo Santa Lucia. Dopo aver lavorato sodo sui fondi europei anche per ridurre il gap creatosi in questi anni caratterizzati da notevoli ritardi ora la giunta regionale sta puntando forte sulle politiche sociali e di sostegno alle famiglie per questa ragione si è deciso di creare nuovi asili nido su tutto il territorio regionale si calcola che per la fine del 2015 ce ne saranno 101 nuovi di zecca asili nido per la prima infanzia per la fascia di età compresa tra 0 e 36 mesi. La regione campagna ha stanziato 58 milioni di euro cui si aggiungono grazie ad una recente delibera ulteriori 17 milioni di euro di cui 10 destinati al supporto alla gestione degli asili in fase di start-up e la restante parte al sostegno economico di nuclei familiari con a carico persone non autosufficienti al terzo settore per il supporto ai servizi domiciliari. I nuovi asili nido si vanno ad aggiungere ai 20 già aperti e tra questi diversi in provincia di Salerno tre nel comune Capologo e poi ad Acerno, Sala Consilina, Scala, Cava dei Tirreni, Atena Lucana, Baronissi, Battipaglia, Fisciano. Complessivamente le strutture sul territorio regionale entro la fine del 2015 saranno 121 nel dettaglio 11 nella provincia di Avellino, 14 nella provincia di Benevento, 20 nella provincia di Caserta, 44 nella provincia di Napoli e 32 in quella di Salerno. In totale i 121 asili nido del piano straordinario attiveranno 4.800 posti di lavoro. Dallo scorso settembre inoltre sono già partiti i nuovi 65 servizi integrati per l'infanzia per complessivi 2.100 posti di lavoro attivati e finanziati dalla regione Campania con oltre 12 milioni di euro. Il 20 novembre 1989 l'ONU istituiva la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una data in cui veniva stipulata la Convenzione per i diritti dei minori. Da allora ogni anno negli ultimi giorni di novembre vengono organizzate manifestazioni in tutto il mondo in occasione della ricorrenza. Il Vallo di Diano non è da meno e in questi giorni sono diversi gli appuntamenti dedicati a bambini ed adolescenti. Vediamo. Ha compiuto 25 anni la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza varata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Da allora ogni anno nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla data di emanazione vengono organizzate manifestazioni di vario genere in tutti i paesi del mondo e l'Italia non poteva essere da meno. Il Vallo di Diano risponde presente all'appuntamento con iniziative ed eventi organizzati proprio in questi giorni ma che proseguiranno anche nella prossima settimana. In particolare la giornata è stata festeggiata ieri a Sant'Arseno con il coinvolgimento dei bambini delle scuole primarie. Da domani invece l'ormai consueto appuntamento con la festa dell'infanzia giunta all'ottava edizione e che ogni anno vedete già notingersi di moltitudine di colori e dei tanti sorrisi dei bambini che nel fine settimana raggiungono la città museo del Vallo di Diano per divertirsi ma anche per riflettere su temi di notevole importanze e soprattutto utili per favorire la crescita culturale dei giovani e per educarli alla socialità e al rispetto delle persone. Quest'anno gli organizzatori, lo studio pediatrico del dottor Luigi D'Alvano anche ideatore dell'evento, l'associazione Amidia e il punto famiglia Acli, Mani Colorate e Teggiano hanno scelto come tema ispiratore il gusto della scelta per invitare i bambini a riflettere sulle strade che ogni giorno intraprendono. A tutto ciò si aggiunge un altro evento di notevole spessore in programma questa volta a Sala Consilini al prossimo 27 novembre presso l'aula magna dell'Istituto Scolastico di Via Matteotti è rivolto essenzialmente a quanti sono coinvolti nel tema dell'affido sociale. Anche questo appuntamento organizzato dal piano sociale di Zona S4 rientra tra gli eventi dedicati alla giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e saranno proprio i diritti dei minori tema del confronto tra magistrati, avvocati, psicologi e assistenti sociali nonché docenti e genitori nell'incontro su affido, aspetti giuridici e psicologici a confronto. La giornata di studio approfondimento che avrà inizio alle ore 15 sarà caratterizzata da un'ampia discussione della tematica relativa all'affido familiare analizzando nei diversi aspetti sia giuridici che dal punto di vista psicologico. Per affrontare ampiamente l'argomento sono previste le relazioni di numerosi esperti previsti gli interventi oltre che del responsabile del piano sociale di Zona Antonio Florio organizzatore dell'evento anche del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca della dirigente scolastica Maria Antonietta Trotta e del sindaco di Sala Consigna Francesco Cavallone. Per gli avvocati e gli assistenti sociali che parteciperanno al convegno è previsto il riconoscimento di crediti formativi. E adesso parliamo di apicoltura perché c'è per questo settore un allarme lanciato dal Ministero della Salute e confermato dall'Istituto Zoo Profilattico Sperimentare delle Venezie individuato infatti un parassita in grado di distruggere interi alveari. Le prime presenze del coleottero sono state accertate nella vicina Calabria per tale ragione il responsabile settore agricoltura del Codacons lancia l'allarme e chiede maggiore attenzione agli apicoltori del Vallo di Diano. Vediamo. Lo scorso mese di settembre il Ministero della Salute lancia l'allarme della presenza di un parassite in grado di distruggere interi alveari. Il coleottero denominato etina tumida infatti è in grado di provocare notevoli danni che vanno dal consumo delle scorte di polline e miele fino ad arrivare alla distruzione dell'intera covata. Individuato attraverso controlli mirati nel territorio di Sovereto in provvigia di Reggio Calabria il Ministero ha quindi immediatamente diramato lo stato di allerta data la straordinaria velocità che il parassita possiede e la capacità di spostarsi anche per diversi chilometri. Il responsabile settore agricoltura a coda Consvallo di Diano, Salvatore Gasparro ha in questi giorni diramato l'allerta anche nel territorio valdianese vista anche la vicinanza con la regione in cui sono state accertate le prime presenze del parassita degli alveari che minaccia l'apicoltura italiana. Dopo il primo allarme lanciato dal Ministero della Salute nei giorni scorsi anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ne ha confermato la presenza. Pertanto Gasparro chiede maggiore attenzione anche agli apicoltori del Vallo di Diano spiegando in una nota le caratteristiche del coleottero e sollecitando controlli costanti negli alveari. Il mio invito, spiega Salvatore Gasparro, è quello di monitorare costantemente e con la massima attenzione i propri apiari perché solo un'individuazione rapida della presenza del parassite e la sua eliminazione contribuisce a velocizzare il piano di eradicazione ed è un atto di responsabilità nei confronti del patrimonio apistico. Inoltre, conclude il responsabile settore agricoltura del Codacons Vallo di Diano qualora si desideri acquistare degli sciami, delle api regine o altro materiale soggetto a contaminazione è opportuno controllare sempre la provenienza e la relativa certificazione. Informazioni utili per l'individuazione del parassita sono visibili sui video pubblicati su YouTube dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie digitando semplicemente il nome del coleottero, Aetina Tumida. Ed ora un attimo di pubblicità, ma restate con noi, c'è lo sport. Ben ritrovati con l'informazione di Uno News, andiamo avanti. Oggi ricorre la Virgo Fidelis, appellativo cattolico per la Vergine Maria che è anche protettrice dell'arma dei carabinieri. E anche a Sala Consilina, come ogni anno, i militari della compagnia Carabinieri con il capitano Emanuele Corda, si sono riuniti presso la Chiesa della Santissima Annunziata per una Santa Messa. Andiamo avanti nel Vallo di Diano. Un giovane soprano si sta facendo strada. Parliamo di Marco Opromolla, già esibitosi davanti ad Andrea Bocelli e che, supportato fortemente dalla banca Montepruno, sta lavorando alla realizzazione del suo primo CD. Vediamo. Marco Promolla è il giovane soprano di Polla che questa estate si è esibito ad Ischia davanti ad Andrea Bocelli nel corso della manifestazione Canora Premio Ugo Calise. La sua carriera è fortemente sostenuta dalla banca Montepruno grazie anche al supporto del maestro Antonello Cascone, musicista e compositore di fama internazionale. Tanto che insieme stanno già lavorando alla realizzazione di un CD, il primo lavoro ufficiale con cui Marco Promolla inizierà a promuovere la sua voce da soprano. La lavorazione è iniziata in queste settimane. La banca Montepruno, il maestro Cascone e la professoressa Dina Rina puntano molto sul talento di Marco Promolla. Abbiamo voluto intensificare le azioni a favore di Marco, ha commentato il vicepresidente della banca Montepruno, Antonio Ciniello, in quanto la sua crescita professionale, grazie alla vicinanza del maestro Cascone, ha già dato i suoi primi effetti. Siamo consapevoli delle difficoltà che Marco potrà incontrare sul suo percorso artistico, ma vogliamo stare al suo fianco e a quello della sua famiglia per cullare il grande sogno di vederlo cantare su palconscenici importanti e farlo diventare un esempio positivo. Ed ora lo sport, andiamo a Polla, è stata ufficializzata ieri la nomina a presidente della World Kickboxing Federation in Campania di Carmine Liguori, titolare dell'associazione sportiva Life, scuola sportiva di Polla. Grande soddisfazione espressa dal neoeletto presidente che si mostra già determinato sulle attività da realizzare. Vediamo. Diffondere e promuovere in tutta la regione Campania la pratica della kickboxing sarà l'obiettivo primario del neoeletto presidente regionale VKF Carmine Liguori, titolare della palestra SD Life, scuola sportiva di Polla. Un impegno che lo stesso Liguori ha dichiarato voler portare avanti con grande determinazione, visto anche il notevole riscontro che la disciplina sportiva sta riscuotendo a livello internazionale. In Italia, nonostante si stia rapidamente diffondendo la pratica ed è in aumento il numero degli iscritti nelle innumerevoli scuole sportive che praticano la disciplina, la kickboxing stende ad ottenere riconoscimenti a livello internazionale. Ecco perché Carmine Liguori, per i diversi successi ottenuti nella sua palestra a Polla proprio con la kickboxing, ha deciso di impegnarsi in questo nuovo ruolo che gli è stato affidato. È di ieri la comunicazione ufficiale da parte della World Kickboxing Federation Italia, che ha individuato in lui la figura adatta a perseguire l'obiettivo che la stessa federazione italiana sta cercando di perseguire al fine anche di portare i campionati mondiali in Italia. Carmine Liguori, esprimendo viva soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, ben consapevole del difficile compito affidatogli, non dimentica il suo territorio. Il Vallo di Diano è stato infatti nei suoi primi pensieri, dichiarando di puntare anche ed essenzialmente a realizzare importanti manifestazioni sportive di kickboxing proprio nel territorio valdianese, in modo da favorire anche il turismo sia culturale che enogastronomico. Ed ora parliamo di Maratona da Pola, la Metal Fair Runner di Pola appunto, con i suoi nove atleti, è stata protagonista dell'edizione 2014 della Maratona di Palermo. Su migliaia di partecipanti, tutti sono riusciti ad aggiudicarsi ottimi posizionamenti, regalando grande soddisfazione al loro presidente Antonio Coppola. E intanto sono già pronti per nuove sfide e nuovi appuntamenti. Vediamo. Grande soddisfazione da parte del presidente della Metal Fair Runner, Pola, che ha visto molti dei suoi giovani atleti primeggiare nell'edizione 2014 della Maratona Città di Palermo, svoltasi lo scorso 16 novembre appunto a Palermo su due distinti percorsi, la Half Marathon da oltre 42 km e la Mezza Maratona di circa 21 km. Nove i ragazzi provenienti da Pola e tutti che si sono particolarmente distinti in una competizione podistica che ogni anno raggiunge numeri impressionanti in quanto a partecipanti. Gli atleti della Metal Fair Runner hanno dovuto competere con 1600 podisti giunti da ogni parte del mondo trattandosi di una gara internazionale. Atleti giunti nella città siciliana per la Maratona, peraltro riuscendo anche a classificarsi tra le primissime posizioni sugli oltre 1600 partecipanti. A distinguersi particolarmente è stato Riccardo Volpe che è riuscito a posizionarsi al dodicesimo posto nella classifica generale ma aggiungendo prima nella categoria PM. Non è stato da meno Panza Francesco che nella classifica generale della Maratona da 42 km su 700 podisti in gara è riuscito a classificarsi 130esimo. Ottimo piazzamento per Di Santi Vincenzo nella categoria M35 con la quinta posizione e 29esimo nella classifica generale. Ma tutti i partecipanti hanno davvero stabilito per le loro capacità riuscendo a ben figurare e aggiungere tra i primi sui 1600 partecipanti nella gara podistica della mezza maratona. Fabrizio Stranieri è risultato 51esimo, Antonio D'Amato al 108 posto, Armando Sassu 119esimo, Rino Di Leo 137esimo, Vincenzo Manzione 168esimo e Pasquale Manzo 194esimo. Non si fermano gli atleti della Metal Fairrunner di Polla. Dopo gli importanti successi raggiunti in Sicilia sono già pronti per la prossima gara che li vedrà domenica 23 novembre a Mercato San Severino per la gara podistica regionale Corri Sant'Angelo che li vedrà impegnati su un percorso di 10 chilometri. È tutto, era l'ultima notizia. Io vi ricordo domani mattina alle 7.10 la rassegna stampa e vi ricordo anche il nostro sito internet unotvweb.it A tutti una buona serata. Grazie. 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 Grazie.